Una domanda di fisica, va bene, ascolta bene. Dunque, che cos'è più veloce della luce? Non c'è niente più veloce della luce. E invece sì, c'è la pipì. Più veloce della luce? Sì, perché io ieri sera ero nel mio lettino, mi scappava la pipì, non ho fatto in tempo a accendere la luce che patatrà.